A dividerli c'è il mare e una guerra feroce e infinita ad unirli lo schermo di un computer. Sono studenti milanesi e siriani per un giorno a scuola insieme. Un incontro a distanza che rientra in un progetto realizzato da un consorzio di ONG italiane e straniere e sostenuto dall'Unione Europea, che punta a riportare a scuola più di 21.000 bambini e ragazzi siriani costretti a lasciare il loro devastato paese. Sinceramente no, non conoscevamo ancora realmente la situazione. Sapevo un po' come era, che c'era la guerra, queste cose, però non conoscevo questi progetti. Nella loro situazione adesso stanno imparando e stanno andando avanti. Mi sembra che i ragazzi da una parte e dall'altra del Mediterraneo abbiano fatto sentire con estrema facilità quanto poi l'infanzia e l'adolescenza si assomiglino in tutto il mondo al di là, insomma, delle differenze e delle difficoltà. Nei 19 centri educativi allestiti dalle ONG in Libano e nei due aperti in Giordania i bambini siriani tornano a studiare ma soprattutto tornano a sognare il futuro loro e del loro paese che vogliono, come ha detto uno di loro, come era prima della guerra ma più sviluppato e più bello. Tanti studenti poi facendo il percorso poi ci dicono noi adesso possiamo credere più in una Siria migliore, adesso magari possiamo ricostruire una Siria nuova. Sentiamo adesso più la speranza di poter farlo grazie a questa possibilità di ricevere un'educazione, di migliorare e poi realizzare i nostri sogni. Grazie. Grazie. Grazie.